Andiamo a provare la pilla, la pilla, la pilla, la pilla, la pilla Sta cosa la dirò, boh, per tutta la durata Ma perché sto gioco gli si bugga sempre l'audio e lo devo abbassare? Il fazone Via Che hai visto? Fregna Che hai visto? Fregna Il tuo obiet... Ma obiettivo non si scrive Obiet... Ma è mega satana Ma non si scrive poi con una B sola? Bella Bella la sdrogobomba Eccoci qua World of Babylon ho i sette sigilli per 60 punti Beh i sette sigilli sono buoni eh No, tu fai mega satana Ah, sono morto, ho capito Capisco Tocca a giocare un attimo safe Aspetta Che sto a giocare con ste cazzo di sdrogobombe Sto tutto XD Qui che altro c'è questo... C'è cosa? Come si chiama? Tipo questo dezoom che è un po' ambiguo Allora, il negozio... Eh, la mappa dei segreti non è manco male Però non c'ho i sordi eh Ma io non dovrei rompere la cosa La donation non si ricarica Non dovrei trollarla troppo Ragazzi sto trollando il game Ragazzi sto trollando il game Ma le sigret ci sono in queste mappe? Perché pare che non ce stanno Ah no, ce stanno Ah beh La tomba di Isaac Evoca... Evoca una cassa antica All'inizio di ogni piano La casa può contenere cuori, spirito, ninnoli, oggetti degli angeli Mamma papà Ma che cazzo diete me? Boh, buono Senti, mi prendo un cuore blu pure Che sennò è mezzo XD Dici se ci arrivi al piano dopo? Proviamo a arrivarci Ah Ho capito Tocca Pensiamo a morire in star anna Pensiamo a morire in star anna Immagino In my mind In my head E Brogan è tipo l'oggetto più forte del gioco Però mi devo sbrigare in star anna Mi devo sbrigare perché adesso sto perdendo cash Mamma Cioè mi si amplifica la difficoltà Se non mi sbrigare in star anna Ah, la libreria Ho capito E bisogna sempre pensare se prende le cose se giornarne risa Grazie degli otto уш E se aggiorni Meno 200 insomma Un po' xd Mo sarebbe tipo da dire a mezzo dritto Subito i debiti In teoria bookworm ci dovrebbe dal coso come si chiama Eh che faccio? Che non lo pio quei teats up Ma qui ovviamente non mi fa mettere una sega Ehm scendiamo normale Dicidona? Ah ma pure questo costa Ma sto a meno 300 Ma che cazzo vuol dire? Ok Ma skipperemo la treasure che si Che cazzo devi fa? Non la prendiamo Dobbiamo farmare punti Ma sono una barca di punti che dobbiamo farmo L'ho capito Ma gli oggetti che mi ha dato erano broken Come faccio? Non pialli Rompi il culo a sto scemo Mo puntiamo giusto a prendere magari un po' di danno È bella Magari se non perdiamo il cuore osseo è 1000x No damage più 21 punti La velocità non è male Però costa più 10 No piscia E fammi pensare Se ne dobbiamo fare mega satana Dobbiamo andare nella stanza degli angeli Scendiamo normale Via Cutto Curse of the lost Perfetto E che fai? Lalo glielo lasci Meno 80 vai Festa Questa sta il processo King Oddio i funghetti di Super Mario Bros Ah sono stati tattato Ho capito Madonna ma che so la Juventus Che fai? Queste risorse Gli lasci pure queste Che fai? Gliele lasci? Io glielo lascio niente Ma che cazzo ho mai tato? Ma questo non ti dà cose Ma stiamo rischiando veramente duro Perché devo È vero Devo tornare sotto ai meno 50 Sennò per Mamma mia Ma è tragica E più che altro Sai che Vedi Succede questa cosa qui Che cominciano a spararti a nastro Io gli sapevo Mi è arrivato a meno 300 È un piccolo meme Ma la challenge Dove è vero Non mi ha dato punti È un po' XD Ma che m'ha preso? Ma è bugato anche la cosa degli angeli Ho saltato satana Perché non c'ho il 100% angeli? Fettualmente non posso prendere più item Tipo Cioè dovrò finire la run così Tipo Cos'è questa sdrogo cacca? Andiamo a vedere qua che c'è sta Sta stronzata E' bella che tene Via Skippiamo ancora treasure Non c'è una sega Facciamo 3 minuti per fare i punti Ni faremo mai Eppure è sbagliato strada Mamma mia Che perdita di tempo Ma perché la tomba di Isaac è fotta? Se mi ho messo in questa modalità Non lo è Perché se devo spendere i punti Per prendere gli item gratis Ho speso una barca di punti No, no, è di allenamento E' per capire Dei proprio prendere le cose Dei proprio prendere le cose importanti Altrimenti è finita Mamma mia Che brutta stanza Che stanza demoniaca Ok Ma il pesaggio Sei tu, sì Ok Capirei, vatti a fare questo che Esatto Che mette il nos Ah, ma c'ho l'invincibilità Buono Questo sarebbe buono In realtà Ma non posso spendere altri 60 Letteralmente E niente Buonissimo Apriamo un po' qua Eh, pure questo Arciuccio era buono Marti 50 Noi gli posso da Cioè c'era una god run Senza senso Questa Questa era una god run Immensa Molto difficile Ah, proprio respawnano le cose Perché abbiamo perso Troppo tempo Con i soldi in negativo No, diventa poi infattibile Cioè tipo Permare Spawn alla roba E tipo Ogni stanza È doppia Oh mio dio Holy shit 10 doppi punti Questa Sto a morire Porta Ah, sono a fo- Ah, è tripla Ho capito Ma ora sono a questa difficoltà Per sempre? Ah no, no È tornata normale Madonda che c'è C'è chi E no Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ma che era i quad zai cazzo a cacca pietrificata tutto 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 uno de vita no grazie cutto mi servono gli angeli se non mi è casata non lo faccio col cazzo oh planetario eh diamo un occhio buono un cerchio di circonda con in sostanza 7 questo mi sembra che non funzionava con il feto mi sa che io se posso lasciare mi sa che mi vado a piarciuccio che il ciuccio è astro ward con sto coso cioè forte forte con sto minchione dove sta il ciuccio qua dentro oh ciuccio suplex dietelo ok pil machine 58% siamo di nuovo in negativo di punti si però è ok è ok ok capo minchione c'è l'error da sfruttare c'è l'error da sfruttare c'è l'error da sfruttare niente eccoci qua ti diverti ma poi non metti un sordo in saccoccia ma infatti ma infatti mo qua sarebbe da pulire tutte le stanze ma vedi quando trovi una morte si si no quello l'avevo capito è che non l'avevo trovata prima eh questi sono buoni sconti steam e il sacco di chi mi sa il sacco no il sacco di kiper è da prendere è troppo forte il sacco da kiper è troppo forte sai che faccio? faccio pure una giocata deposito ok il sacco di kiper è forte perchè comunque prendi statistiche senza perdere punti steam sale no perchè spendi una barca di punti adesso non mi pare worth perchè c'hai doppio costo per ogni cosa c'hai doppio costo quindi devi pensare bene no no ne vedo stavo per rompere la donation stavo per fare un cappellone stavo per fare un cappellone stavo per fare un cappellone prima andiamo a vedere il boss ah il bloc ma vaffanculo ma gli sta sparato sto pezzo di merda ecco il cazzo andiamo a vedere la error sarebbe da ma in realtà aspetta perchè non devo fare la boss rush di okane oddio il gatto è matto che fa? devo pulire le stanze fede grazie dei sedici gatto che stai facendo? vanno pulite tutte le stanze devi mettere e pulirle tutte non c'è un cazzo da fa' oddio ci prendiamo buco ormai per il meme abbiamo fatto stare si abbiamo preso pure 50 punti bonus no eh ma ci da ci ha dato quant'era? 50 punti tipo infatti stiamo a 170 ma possiamo anche spendere qualcosina no? servirebbe qualche cuoricino per il meme eh mazza che zella ah questo spremo non si sposta devo fa' Bob? eh ti ettelo Bob tanto non te ci trasformerai mai in Bobba quindi pure è inutile ah andiamo a vedere la sdrogo no lì non mi più danno sicuro il fatto è che mega satan non lo faremo mai ci serve una sacrifice eh ma Bobba è difficile non esce non ci trasformi mai oddio Ronaldo il fenomeno vanno ferito questo è buono però dagli 50 punti però ti potrebbe salvare da situazioni critiche gatto mi spieghi che stai a fa' buono chi è? oddio questo che faceva? ogni stanza concede il fetto di un oggetto di mamma casuale ma perchè no? esatto vedi ti possono uscire i fregnetti col coltello io lo so buoni eh di nuovo la libreria eh beh il libro il il Revelation è buono Revelation è forte c'è da un bel cuore però no me tengo quello quell'altro tanto ormai so già buco guarda sti cazzo vediamo qua che c'è sta il nulla atomico doppia sacrifice ok vediamo se riusciamo a farmare i Guadirossi in giro tu 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 vivi la vita loca vivi la vita loca l'immortale ho capito si si è lui che fa chi è? eccoci qua chi è? chi è? quella è la error quindi non andiamo Questa ce la prendiamo Nel turbo Dalluca Viva di Dalluca Ma come pulisce? C'era una tinted? Do sta? Ma do? Ah, è vero Chissà se esce la small rock Se la paghi Buoni sti cuori? No, no, no Gatto, no No, no Lascia il cavo Diamo un occhio No Ma che cazzo sono sti pregne? Quanti punti Ah, è panetti Un po' strano Ok, ottimo Altri cuori Huge Andiamo nel negozio che c'è Oh Dio Ma questa abbiamo vinto La tanna Ok Andiamo a fare la sacrifice Ok Ok Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, questo non dovevo prendere, lo so stupido, otto, stompiamo gli odobby, costano punti pure le chiavi, huge, vabbè sta run è vinto, non posso perdere, è impossibile, non è vinta, possiamo farlo solo soldi, faccio tipo centomila punti sta run, run che non uscirà mai più nella sfida ovviamente, pa 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 è astro vinto, così c'è Il dottor Fedo con l'invincibilità e 4,5 volte è impossibile perde Un'altra libreria Ma perché ce ne stanno così tante? Oh, degli Aerofant Ah, ma vaffanculo Drogoshedinja Ah, è vero che però la difficoltà aumenta Ma dove sta il boss? Ma dove minchia è? Manco la treasure è mu trovata Le siglette sono tipo introvabili Con questi piani così grossi E vaffanculo Io so che ne devo provare ste pillole De merda Cazzo, il pacchetto regalo Ne è manco male Ok Andiamo a vedere la treasure dal volo E farmiamo altri stroco punti Paghi pure quello che esce dal pacco Allora mi serve pure quella mezza merda Tutti sti item che fanno cose doppie Paghi doppio No work Eccoci qua Ah, mo diventa tutto di nuovo Poi isatto Stanze doppie Ma pure i boss diventano doppie Che sarebbe alquanto XD Patroia Eh sì Estremamente Eh perché mo' c'ho troppi punti HPA speed down HPA speed down Planetario Vediamo che è droppa Nightmare Andiamo un po' Ah non lo sappiamo Bobbio Ush Funziona Andiamo a fare mamma Andiamo a fare mamma Sto stupido 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 Nananananananana Bonk 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 Eeeh Fammi pensare una roba Che non mi ricordo un cazzo Allora qua devo prendere il negativo Cioè che prendo prendo uguale Perché prendo a me Come si andava a mega satana? No lo prende il positivo Vabbè prendiamo il negativo Parapapapapa Utero 1 Estremamente difficile Eeeh Non ci interessa Starmondezza Parapapapa Parapapa Mamma Questi sono un tumore Quando muoiono Ah lui Sopravvive Ho capito Oh mio dio No Sai Piscia Sta stanza Mi ha rotto il cazzo Mi ha fatto venire Della tubercolosi Oh Gesù mio Ma questo muore Spona Ma perché C'abbiamo la ranna Strobroken Che Che questa roba Come vedi Come nascono Rimuoiono E mi diverto sempre Su sta cagata Del gioco Quanto spruzzano Forte Ragazzi Quanto spruzzano Forte Ah la spada Di Damocle Ho capito Ho capito Ragazzi Sa che Se non Muoio Probabilmente È un bug Ragazzi Ma le stanze Respondono All'infinito Allora Aspetta F1 Perdi Da 2 a 4 Oggetti Rando Da quelli Che possiedi Perdi Da quanti punti Rando Da quelli Che hai Con te Del 40 Points Questo è per Forza Ma la Cioè Se la forzo La forza Adesso Ma Costa Eh sì Costano Così Le robe Allora Col cazzo Scusa Ma le stanze Ora mi danno Mi fanno danno Cos'è sta roba Se Prendi Oggetti Scendi di punti E ti si leva Damocle Però ce l'ho Ancora In testa Quanto Cazzo Ma se forzo Stapì Il machine Ah dovrei Proprio Andar Zero E che Prendo Qui Points Che Gli item Se mi C'ho Tre Item Se mi Se mi Toglie Il Feto E' Finita E' Persa Facciamo Points Come Come clicco Scusa Ma non mi Clicca Si Si seleziona Si seleziona Con le frecce Sinistra E destra E confermi Con space Ah ok Vabbè Perché ho preso I libri Ma io c'ho L'invincibilità Ma so Coglione Parapà Drogo Bomba Ma perché stanno Le cose pure qua Oddio Bella proiezione Astrale Prodotto Chimico Mezzo Sti Cazzi Quando ho ferito Fermare Diventa un fatale C'è il suo Da fantasma Non c'è del volo Questa è la forte Prendo danno Dai Ah devo rifarmi sto Sta stanza di merda Capito Dai crepate Tu le vuoi le ville Tu le vuoi le ville 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 Ville Guarda, fa pure uno sdrogo patto Dice ciole in realtà Oddio, non credo che dica ciole Ma perché ho usato la cosa? Ho sciotto Ok Oh, la sdrogo super cassa Cassa? Con la sdrogo super cassa Sdrogo super cassa Ah, c'ho il cursore in mezzo al cazzo Vai Che rischio Ok 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 Molto nel chilling Un'altra libreria Dai, apriti Fatti da ancora Uh, giocherigno Ma posso farmare punti infiniti con sta cosa, tipo La, 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 la Ora, io ovviamente non posso riforzarla la cosa Eh no, posso farlo solo con items Vabbè ma lo faccio alla fine in casa Vabbè ma lo faccio alla fine in casa Però con mega satan non lo posso fa' Oh Oh The Hermit The Lovers Joker The Moon Temperance Qua c'è la temperance? Attiva 5 effetti di pillole casuali E' come te sbagli Bibbia satanica No Dove cazzo hai il boss? Ti spuono la chest appena senti dentro Ti posso trovare tutti i punti Con mega satan Se ti spuono la chest Appena Se ti spuono la chest appena senti dentro Ti Ah ok Quindi in caso Quindi se in caso io entro dentro mega satan Non mi esce la chest per deposita i punti La forzo magari La posso forzare Mentre il fighto Metto i punti E poi lo ammazzo tipo In teoria Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-va Ok ok Oh questo Mobi a 30 E' regalato a 30 Non mi ricordo se c'ho roba da assorbire Per il boss non sia delimio che ti sponi la machine Ok figo No no gatto 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 devi lasciare subito il coso Lascia Lascia il cavo Ma che stai a fa' Ma sei pazzo Ma che fai Gatto tammi C'è stava di pan piccato 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 E' sparito Tinted Autore dei sottotitoli C'è stava i ospedini Perciò moeten Oltre che era utero XL Ma il cuore di mamma Do sta scusa? Lol delirio Col cazzo Fammi ricordare Se ho preso la cosa nera Devo scendere sotto Invece con la bianca sopra Buono No Respawnano? No Madonna È arrivato un bolide Ma usiamo Joker Tanto non c'è un'altra chance Di usarlo Che zella The tower Che zella Ci hanno dato un item buoni quelli Questa era una run normale Era la run più broken di sempre Mi era uscito tipo di tutto Ho dovuto schippare tipo la peggio roba Olè mi prende Che zella lo crediamo pure nooo è mo? nooo dovrebbe andare a me comunque giusto? ok ok buono no 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 non so se funziona dovrebbe tu 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 moncas no l'uomo delle sdrogobombe facciamo meno 2 di luck quindi non worka mai in dove vial anche qua c'è l'error mi sa di si devo stare attento infatti si extra si perchè stavo vibando con la musica non 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 nooo ah è che voglio farmi pure dell'emba no non non mi conviene non 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 i partiti danno quattro punti tipo Ok, qua è un modo E sto tollando il game, mi so Oh mio Dio Ahia Eh non c'ho da Antiguaria Ma che c'ho tutti sti cuori Eh potrebbe essere greve Se vado a farmi direttamente Megasata Mi pare un po' greedy Ragazzi ma quante volte sono spawnati 10 Ma porco Dio Ma quanti so Non c'è Non è spawnato il coso per fare punti Cioè io adesso in questo caso che devo fare Devo fare F1 Cioè mentre Quando gli rimane uno De vita Faccio F1 Mi tolgo gli item E me lo ammazzo È l'unica Spawn a fine stanza No no Aspetta Ullis Non ho capito Non ho capito Tipo questo boss qui Che con lui finisce la run In teoria Ah no perché c'è No perché c'è Se non esce delirium Finisce la run Si La machine spawna Dopo che batti il boss Mai prima Ok Eh quello sto a capire Perché in teoria Quando batti lui Parte la cinematica Ed è tolto Che parte la cinematica Ma spawna al 100% Dove si vede Se spawna al 100% Sta roba Aspetta 44% Boh Ma sono gli stessi di prima Ma non è che respawno all'infinito Sti fregni No no Non respawno Sarebbe l'ebola Chi è? Era il tumore Ah ma è per fortuna Che ci abbiamo 4-5 volte Con l'invincibilità Eh Se no Damocamo perso Probabilmente Eh Damocamo Preso il pipo Vabbè No quindi non faccio F1 Per togliermi la roba Voglio vedere che cazzo succede Edo grazie dei 59 Amo bentornato Pupurubu Zugu 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 Questo ma non piadanno Sto caso Non mi sta a ricaricare Oh ricarica il cazzo di scudo Ma sei matto Ah mi ha ucciso la spada Ma ce l'avevo da 2 minuti Togli sta a spada Da cazzo Porco dio Un gioco Porco dio Già so No ma tirtato Non voglio più vedere Se è che in vita mia Non mi ha ucciso la spada